Il percorso all'Istituto Comprensivo di Zanavano La scuola dell'infanzia Sargio Laghi Eccoci all'ingresso, poi verso gli spazi dedicati ai giochi e alle attività C'è un bel giardino per giocare e ritrovarci Dopo i tre anni alla scuola dell'infanzia possiamo scegliere se iscriverci al tempo pieno della scuola primaria Sargio Laghi o al modulo della scuola primaria Virgilio Giotti La scuola Giotti è nella sede centrale Vi mostro le aule Vedete come sono grandi Ed ecco gli spazi della mensa del SIS E ora di corsa verso la palestra e anche verso il campo giochi all'aperto E qui a fare musica tutti insieme La scuola Laghi Del tempo pieno Ha uno splendido parco con alberi grandissimi Gli spazi sono colorati Possiamo fare attività sportive nella palestra o colpivare piante nell'orto Lo spazio verde ci permette di muoverci in libertà Ma possiamo anche ballare in palestra Poi quando diventiamo grandi ci accoglie la scuola secondaria Carlo Stuparic Le attività sportive sono intense Ma ci sono tanti momenti per i lavori di gruppo Un laboratorio informatico all'avanguardia Un atelier con un microscopio digitale E una stampante 3D La biblioteca è uno spazio caldo e accogliente Spesso ci impegniamo in attività a favore dell'ambiente Siamo appassionati di musica Nella sezione musicale possiamo suonare la chitarra, il piano, le percussioni o la tromba Ti aspettiamo! Unisciti a noi, Altriziana Weiss! Unisciti a noi, Altriziana Weiss!